Che fine ha fatto il vecchio? Chissà... Avdol è andato anche a controllare e non è ancora tornato... Oh! Non dirmi che... che sono andati... Eh? A mangiare qualcosa di super delizioso senza di noi! Ah, starà ancora perdendo tempo in bagno. Se non tornano nei prossimi 5 minuti vado a cercarli. Ah, giusto. Forse hai ragione. Ripensandoci, i bagni in quest'hotel erano così puliti...